Le ricerche vanno avanti e proseguiranno senza sosta per giungere ad acciuffare i due malviventi che ieri mattina poco dopo le 13 hanno creato spavento dinanzi al piazzale della scuola Carlo Alberto Alemagna di Piazza Ovidio Serino nella parte alta di Torrione. Un fermo ad opera dei carabinieri della sezione radiomobile di Salerno di due uomini a bordo di una Citroen C3 scura che hanno tentato la fuga per sfuggire ad un controllo. La vettura con due giovani a bordo apparsi sospetti era stata notata dai militari che hanno deciso di pedinarla mentre transitava da via Paolo Grisignano in direzione via Cosimo Vestuti. È stato proprio dinanzi alla scuola elementare che i carabinieri hanno deciso di intimare l'alt ma nel momento in cui sono scesi dall'auto uno dei due si è messo in fuga perdendo anche delle mazzette di soldi mentre l'altro ha accelerato con la macchina esplodendo alcuni colpi di pistola in aria. Il militare ha fatto un tentativo di bloccare la macchina sparando nella ruota destra per cercare di arrestare la corsa pericolosa del mezzo e fermare l'uomo. Nel tentativo di inseguire e rincorrere a piedi il fuggitivo un carabiniere è caduto provocandosi alcune ferite refertato poi all'ospedale Ruggi di Salerno senza gravi conseguenze. Tanto spavento nella zona dove proprio a luna si susseguono due uscite differenziate di un quarto d'ora degli alunni della scuola. In piazza Serino erano infatti presenti alcuni genitori che hanno assistito con apprezzione e paura a quanto stava accadendo. I due uno a piedi l'altro a bordo della Citroen C3 sono riusciti a guadagnare la fuga facendo perdere le tracce. Sul posto l'immediato arrivo di altri carabinieri in supporto recuperati quasi 4.000 euro forse bottino di una truffa. I carabinieri infatti sono al lavoro per capire se l'identikit dei due protagonisti dell'inseguimento e della sparatoria sono le stesse due persone che sempre ieri mattina hanno messo a segno una truffa ai danni di anziani in via Vincenzo Padula in prossimità della chiesa di Santa Croce a Torrione poco distante da dove si sono susseguiti i fatti per la quale sta procedendo la polizia. Sul posto anche il comandante della compagnia di Salerno Adriano Fabio Castellari che sta coordinando le indagini. Diverse pattuglie ieri hanno setacciato la città ma si lavora a ritmo serrato per chiudere il cerchio e giungere alla cattura dei due. Ai nostri microfoni il maggiore ha ricostruito la dinamica spiegando anche perché c'è stata la necessità di utilizzare le armi. Una nostra pattuglia della sezione radiomobile ha deciso di sottoporre un controllo dinamico durante la marcia, un'autovettura che appariva sospetta come condotta di guida. Nel momento stesso in cui i carabinieri sono scesi dall'autovettura per controllare negli occupanti uno dei due si è dato una precipitosa fuga a piedi cominciando a perdere numerose banconote di denaro dalle tasche mentre l'altro improvvisamente ha accelerato con la macchina ed ha esploso due colpi d'arma da fuoco in aria proprio in corrispondenza dell'uscita dei ragazzi dalla scuola alemagna. Chiaramente i nostri militari sono subito adoperati per porre in sicurezza le persone. Per evitare che questa macchina potesse eventualmente accelerare all'indirizzo degli studenti e degli altri civili presenti è stato fatto un tentativo di esplodere alcuni colpi d'arma da fuoco in direzione delle gomme sul lato destro ovvero dove non vi era nessun civile, nessun'altra persona in transito. Quest'azione non ha sortito l'effetto di fermare l'autovettura, comunque i nostri militari sono riusciti a mantenere la sicurezza della situazione, ovviamente si sono premurati di concentrarsi sulle condizioni di salute degli alunni, dei genitori e tutti gli altri civili presenti e da questo momento in poi ci mettiamo ovviamente sulle tracce di questa coppia per cercare di ricostruire l'accaduto. Ci sono novità nelle indagini? Al momento stiamo lavorando lacrimente per individuare questi due soggetti. Grazie a tutti.